Siamo in via del Centenario alla fermata della Sita e qui che vogliamo porre un problema. Ci sono queste tre lambade che da tempo immemorabile sono spende e la sera, quando gli utenti, soprattutto i ragazzi, devono prendere gli autobus, hanno delle palesi difficoltà. Ma il discorso noi lo allarghiamo sulla pubblica illuminazione di Battipaglia. Un lavoro fatto in modo veramente confusionario. Alcune zone cardine della città, la stazione ferroviaria, sono state messe in disparte. Così si continua ad andare a tendoni, si fa una parte, si mettono delle lambade, poi si lasciano i lavori a metà. Un modo veramente assurdo di lavorare. C'è stato anche detto dai responsabili che avrebbero provveduto a fare questo e a fare quello. Però questo è un modo di lavorare assurdo. Il caso che poi vi presentammo alcuni giorni fa in Piazza Nenni, dove fu cambiata la pubblica illuminazione e messe le lambadine a led. Parallelamente c'era via Napoli con quattro lambioni ancora spenti da mesi, via Gerardo Rocco con un'illuminazione fatiscente che non funziona da quasi un anno. E allora che dire? L'esortazione è che affinché si svolga un lavoro più coordinato, un lavoro più incisivo e soprattutto non si proceda più a tentoni.